carissimi amici e amiche bentornati ad una nuova puntata di questo ciclo di catechesi dedicato al peccato originale alle implicanze delle dimensioni sessuali nel peccato originale nel post peccato originale siamo abbastanza avanti nel nostro percorso la volta scorsa abbiamo terminato la rassegna biblica dei brani in cui si fa allusione più o meno esplicita a la tematico oggetto del nostro tema quindi ripeto le implicazioni e della area della sessualità in ciò che è stato o nelle conseguenze del peccato originale la parte biblica è stata preceduta come chi ha seguito il ciclo di catechesi sa da un'amplissima rassegna di testimonianze patristiche ecco con padre della chiesa di un certo calibro non differenti e oggi vediamo qualcosa l'ultima sezione del libro del barontini perché poi passeremo all'analisi dettagliata di tutto quello che il signore al riguardo ha detto alla mistica maria valtorta questa sarà la parte conclusiva del nostro percorso dove si tireranno un pochino le somme formuleremo l'ipotesi teologica sulla base di tutto quello che è venuto emergendo e delle conclusioni che se dio vuole riusciremo a trarre dicevo che oggi si apre l'ultima parte del testo del barontini a proposito meglio che lo dico in pubblico così questa catechesi rimane rodolfo barontini a seguito delle diverse richieste pervenute attraverso queste questo ciclo di catechesi si è deciso a pubblicare il libro che non era pubblicato e lo ha messo su amazon io evidentemente non c'entro assolutamente niente quindi come già detto io prima di iniziare questo ciclo di catechesi siccome lui mi omaggiò a suo tempo di questo testo avendo sentito dei miei interventi che facendo riferimento a maria valtorta e a quelle poche cose che sapevo dei padri della chiesa pensava potessi essere interessato e me l'ha mandato quando l'ho letto questo facciamo un po di ripasso dico no no qui ci vuole la farò assolutamente un ciclo di catechesi così affrontiamo bene quest'argomento e tiriamo fuori tutto come già detto ribadito tutto quello che ci stiamo dicendo qui è di libera interpretazione e di libera considerazione distinguendo sempre ciò che il peccato originale c'è stato sicuramente ciò che la chiesa insegna l'abbiamo già visto ciò che la chiesa chiede fedeli di credere tutto questo che stiamo facendo è una ipotesi teologica quindi certamente non è che stiamo parlando a vanvera non è che sto facendo questa cosa qui perché non c'è niente da fare tanto per fare qualcosa di sera no no perché questa ipotesi teologica ha delle conseguenze quindi la sua verità che io ritengo sussistente evidentemente altrimenti non sta facendo permette la comprensione di una ampia serie di cose attinenti alla vita umana alla fede cattolica alla legge di dio all'osservanza dei comandamenti alla legge naturale un sacco di cose alcune sono già emerse altre ne vedremo ancora no si tratta di cose a mio avviso che sono quanto mai attuali perché la materia implicata in questo studio in particolare il tema della sessualità purtroppo dopo l'evoluzione 68 è diventato un po' un problema nel senso che anche in aree penso che non stia dicendo misteri insomma penso che chi segue sa adesso fino a che punto ci si sta stringendo insomma anche oltre da parte di più di qualche teologo quindi ormai queste cose sono diventate praticamente normali sono state normalizzate e quando qualcuno parla ne parla ritornano nelle solite tematiche soliti cliché no della che la chiesa che ancora parla di queste cose che è rimasta al medioevo che non si è aggiornata non si è modernizzata mica nel 2022 si possono ancora andare a dire queste cose in giro no ecco e non è così come abbiamo già in parte visto e come speriamo alla fine di questa nostra prolungata conversazione dovrebbe ulteriormente emergere allora apriamo il capitolo ottavo comincio la citazione del testo a differenza degli scritti vari autori e padri della chiesa che abbiamo analizzato nei quali la tematica indagata viene fatta oggetto di ipotesi e affermazioni esplicite negli insegnamenti del magistero queste ipotesi non vengono mai menzionate direttamente si trovano solo affermazioni che soltanto indirettamente possono essere riferite alla tematica indagata e per fare uso di una terminologia investigativa si trovano indizi che possono essere portati a sostegno dell'ipotesi avanzata solo se tale ipotesi è presente già nella mente di chi indaga questo fatto può essere usato come obiezione contro l'obiettività di chi porta avanti la ricerca facilmente può essere detto che chi indaga ha leggermente risultati che voleva trovare ed è questo il motivo per cui li ha trovati ora però se queste obiezioni può essere fatta per le ricerche nell'ambito delle scienze naturali ancora più facile farla quando si tratta di interpretare dei testi sia che si tratti di opere di autori sia che si tratti di testi del magistero della sacra scrittura per questi ultimi due casi il fedele di cristo può proporre delle interpretazioni sue personali purché non vadano contro la dottrina certa della chiesa in ultima analisi però deve sottomettere la sua personale opinione al giudizio della chiesa perché l'ufficio poi di interpretare autenticamente la parola di dio scritto trasmessa come dice la de verbum paragrafo 10 è affidato soltanto al magistero io della chiesa la cui autorità esercitata in nono di gesù questo in realtà l'obiezione sopra riportata queste sono delle delle premesse per mettere un pochino le le mani avanti perché è importante perché i dati che emergono poi vedremo sono significativi però evidentemente non si possono come già accennato applicare ipso facto e omisso medio e alla nostra tematica occorre fare delle inferenze logiche d'accordo come un indizio che non è una prova ma quando comincia a essere si diceva quando studia la procedura penale numerosi gravi e concordanti allora possono essere tenuti in considerazione no ora all'obiezione sopra riportata però possono essere mosse due contro obiezioni la prima di carattere generale è questa l'obiettività assoluta è una pura utopia ed è impossibile trovarla nella mente di un essere umano considerazione che sottoscrivo al cento per cento è che dobbiamo sempre tenere presente nel pensiero di ogni uomo è sempre presente una determinata pre comprensione della realtà e sono anche presenti varie ipotesi riguardanti diversi ambiti del reale tutto ciò evidentemente condiziona il pensiero e l'azione dell'uomo la seconda è che nell'opinione comune al verbo condizionare viene quasi sempre addebitato un significato negativo quindi una ricerca che condizionata da una certa opinione del ricercatore diventa per forza una ricerca viziata tonendica una ricerca falsata certamente è possibile che questo avvenga per esempio uno storico imbevuto di anticredicalismo orienterà quasi sicuramente la sua ricerca su eventi che tendono a mettere in cattiva luce la chiesa e trascurerà forse anche senza rendersene conto quei fatti che invece ne mostrano l'influenza positiva sulla società uno storico con tendenze opposte può invece fare l'esatto contrario ecco perché ovino le comune è vera che la storia la scrivono i vincitori e di solito come fa loro comodo molto saggio quest'uomo è tutte molto vere queste considerazioni questa è possibile anche in teologia la prova è che le opinioni presenti nel pensiero di molti teologi uomini di chiesa hanno condizionato in senso negativo cioè hanno falsato audite audite l'interpretazione del concilio vaticano secondo e della dottrina contenuta nei suoi documenti presentandoli secondo l'ermeneutica della discontinuità come la definita condannandola benedetto xvi presumibilmente il pontefice adesso non mi ricordo l'anno di pubblicazione di questo testo non lo so presumibilmente non sono sicuro avrà scritto questo testo quando era ancora papa non emerito ma effettivo benedetto xvi se lo cita in questo modo che cosa vuol dire ermeneutica della discontinuità che il vaticano secondo veniva presentato come una rottura una rivoluzione nella dottrina e nella chiesa stessa la chiesa preconciliare è stata presentata come una chiesa retrograda reazionaria oppressiva della libertà dei fedeli oscurantista e chiusa le novità del mondo e della scienza in ritardo di 200 anni disse qualcuno rispetto alla società contemporanea come ha detto un suo cardinale ora defunto io so di anche a chi si riferisce però lui per ragione di carità tace il nome lo taccio anch'io chi conosce questa citazione capirà benissimo chi si riferisce questa espressione no quindi solo col vaticano secondo sarebbe finalmente arrivata la libertà per i fedeli l'apertura al mondo e al progresso sociale solo noi che siamo venuti dopo il vaticano secondo comprenderemmo davvero come stanno le cose mentre tutti quelli vissuti nei 19 secoli e mezzo precedenti sarebbero dei ritardati mentali nell'esegesi nella teologia e nella morale o amici miei tutto questo che è stato detto adesso chi mi conosce lo sa proprio sottoscritto al 300 per cento che è una cosa assolutamente insopportabile e lungi dall'essersi spenta più passano gli anni più si va aggravando perché il tentativo di benedetto sedicesimo come ormai è diventato palese è completamente fallito è completamente fallito questo lo dico ma è evidente lui ha tentato di ricucire quindi di dire ragazzi la chiesa c'ha venti secoli di storie possibile che ci sia illuminato il cervello da 50 anni fa in poi e prima erano tutti quanti stupidi o tutti quanti non hanno capito niente né di liturgia né di bibbia né di patristica né di morale zero ma questo è completamente inaccettabile io sinceramente non so come possano fare alcune menti ma non è che sono alcune sono la stragrande maggioranza ahimè a pensare in questo modo come si fa a pensare in questo modo della chiesa di cristo non è possibile non può essere è chiaro riprendo la citazione che una visione come questa è pesantemente condizionata da opinioni sbagliate ed è quindi errata come appunto ha dichiarato benedetto sedicesimo che cosa è opportuno chiarire allora che il condizionamento è da intendere in senso negativo quando è determinato da idee opinioni sbagliate al contrario si deve dire che il condizionamento è positivo e molte volte è necessario per raggiungere dei buoni risultati quando è costituito da nozioni idee intuizioni ed opinioni giuste per fare degli esempi continuo a citare perché io sottostivo al cento per cento e quindi faccio qualche piccola glossa ma se galilea non avesse avuto la convinzione che è giusta che il mondo è regolato da leggi che possono essere espresse in termini matematici non avrebbe nemmeno iniziato a condurre i suoi esperimenti sulla caduta dei gravi e su altri fenomeni fisici e non sarebbe stato l'iniziatore del metodo scientifico sperimentale che ha portato ad innumerevoli conquiste scientifiche che hanno migliorato vertiginosamente la vita dell'uomo sulla terra era condizionato domanda no lui non la fa ma lo faccio io era condizionato dalla sua fissazione quindi dalla sua precomprensione che il mondo è regolato da leggi che possono essere espresse in termini matematici meno male perché se non ci avesse avuto questa intuizione che poi ha cercato in tutti i modi di dimostrare e l'ha dimostrata non avremmo avuto la scienza galileiana e per esempio chi sta sentendo queste catechesi sia in diretta che in differita se le sognava la notte la notte perché computer e tutta questa roba qui che è matematica allo stato puro se la ce la sognavamo e senza carileo carilei poi che questo sia usato anche per fare tanto male e purtroppo nella maggioranza dei casi è usato in questo modo è un altro discorso ma il fatto in sé pensate no cioè che adesso cioè io non sono un grande predicatore sono un povero prete no però pensiamo una persona che c'è interesse all'argomento molto peculiare che stiamo trattando se vive a milano ma non è neanche necessario che segua la la diretta perché poi ci sarà il video ci sarà il podcast se la può sentire domani dopo domani tra un anno poi non solo non solo tutte quante cose che se ci pensiamo era impossibile un tempo gli è piaciuta se la risente tale quale cioè io non sarei capace cioè finita la catechesi capiamo subito una cosa io non sarei capace di rifarla uguale cioè perché io perché io non lo ricordo tutto quello che non sono non sono capace di ridire alla lettera tutto quello che ho detto grazie a questi prodigi tecnologici quello che ho detto rimane e io stesso me lo posso andare a risentire se me lo so scordato ed è riproducibile a tempo indeterminato ci sono una persona è mi è piaciuta questa cosa la voglio sentire un'altra volta prego oppure la catechesi dura un'ora non ho tempo di sentirla tutta insieme e che problema c'è venti minuti dopodiché se c'hai youtube salvi in guarda più tardi addirittura youtube se lo ricorda da solo il punto in cui sei rimasto quando c'è altri venti minuti a riclicchi con i podcast è la stessa cosa il podcast specialmente spotify ne sono certo ma credo anche gli altri se tu riproduci un podcast e poi esci quando rientri riprendi il podcast da dove si è fermato quindi pensiamo se galileo non ci avesse avuto questa precomprensione questo senso del discorso se gregor mendel tutti quanti conosciamo penso mendel siamo stati a scuola no non avesse avuto generalmente l'ipotesi della trasmissibilità di certe caratteristiche degli esseri viventi non avrebbe potuto impostare su esperimenti sulle piantine di piselli tutti quanti la ricordiamo queste cose qui studiate a scuola e non avrebbe scoperto le leggi dell'eredità di età o no di esempi come questi nell'ambito delle scienze naturali se ne possono fare un'infinità e questo dimostra che avere una certa ipotesi nella mente purché non sia palesemente sbagliata è una condizione necessaria per poter condurre un esperimento o una ricerca certamente per quanto riguarda le scienze naturali le cose sono relativamente semplici perché prima ancora di leggere se la cosa è vera funzionerà se la cosa non è vera non funzionerà quindi se l'esperimento non funziona l'ipotesi rimane tale e buonanotte quindi la teoria evoluzionistica per esempio intesa come cambiamento come cambiamento da una specie ad un'altra oggi è comunemente ritenuta e presentata anche da cosiddetti scienziati di nuovo sottoscrivo al cento per cento come una verità scientifica accertata in realtà la teoria evoluzionistica è solo ancora una pura ipotesi come ho detto infinite volte ma non io gente molto più grande di me ripeto a sentirete anche in altri podcast e catechesi andare su youtube cercare antonino zichichi evoluzionismo vedete tutti quanti i video e che cosa dice non un povero prete che dice che tu che ci capisci di queste cose per carità poco andiamo a sentire chi chi ci capisce assai no e sentirete quello che dicono scienza come dire a scienza a livello di scienza galileiana nell'evoluzionismo neanche a livello più basso si trova quindi figuriamoci un po in realtà la teoria evoluzionistica sono ancora una pura ipotesi dato che nessuno ha mai osservato direttamente un cambiamento da una specie ad un'altra e nessuno è mai riuscito a riprodurla cioè realizzare un laboratorio tale cambiamento io ho sempre detto di io crederò all'evoluzionismo io quando mi presentano una cosa strana non posso dire alcune cose strane perché non posso dire però l'evoluzionismo di guarda io ci credo quando tu io mi sono disponibile a portarmi dentro casa un bello scimmione ci perdo dalla mattina alla sera a provare a insegnargli a parlare poi lo facciamo gli facciamo nascere le scimmiette piccoline facciamo la seconda la terza la quarta la quinta generazione no quando qualcuno parlerà io credo a quello che dice tardi perché fino a mo gli animali parlano soltanto nei fumetti di di walt disney topolino paperina eccetera eccetera un animale che parla non si è mai visto e siccome l'uomo parla degli animali no io non posso venire dagli animali punto finito il discorso cioè non è tanto 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 da 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 riflettere tu questo me lo devi dimostrare se tu vuoi essere scienza galliana tu lo devi dimostrare riprodurre lo devi fare questa cosa qua se no aia si te stesso e di la verità di te stesso ora quindi per le scienze naturali le cose sono semplici ma relativamente ora nell'ambito della ricerca teologica le cose sono più complicate evidentemente fa l'esempio l'avrei fatto anch'io se fu visitato in lui l'immacolata concezione sapete quante commedie che sono state fatte sull'immacolata concezione adesso le commedie ci sono sulla corredenzione che tanto amici cari ricordate quello che vi dice questo povero prete ma non perché fa il profeta perché sono sicurissimo nel cuore la corredenzione ci sarà un giorno in cui sarà dogma di fede per quanto mi riguarda non adesso certamente ma quel giorno sorgerà non sorgerà probabilmente senza travagli che già da adesso ci sono perché i nemici della corredenzione sono quanti ne vogliamo insomma no ora per secoli e secoli su questa questione si sono dibattuti si sono combattuti la scuola teologica francescana detta immacolatista e quella domenicana detta invece macolatista scusate i francescani ma affermavano che maria era stata concepita senza la macchia del peccato d'origine mentre i domenicani dicevano che anch'essa era stata concepita col peccato originale almeno per un istante anche se poi dio gliela aveva tolto e ahimè chi c'era dietro questa cosa purtroppo niente poco di meno che sant'ommaso d'aquino sant'ommaso d'aquino che ha condizionato pesantemente come vedremo anche la caduta di questa ipotesi teologica cioè delle connessioni dei cioè quello che abbiamo visto nella prima parte l'uomo se non ci fosse stato il peccato originale avrebbe dovuto rimanere vergine o si sarebbe sposato e fatti figli lo stesso nel modo in cui lo sappiamo oggi sant'ommaso d'aquino ha detto la seconda cosa nonostante la quasi totalità dei padri della chiesa eccettuati il secondo no non quasi la totalità eccettuato il secondo agostino neanche il primo perché sant'agostino ha cambiato idea ma il giovane agostino anche lui era d'accordo con questo questo sono d'accordo tutti quanti l'abbiamo visto sant'ommaso ha detto di no ecco l'autorità che c'è uno sant'ommaso tutto il resto è andato tutto quanti ma allora purtroppo e attenzione una motivazione per cui sant'ommaso dice ma se gesù cristo il redentore universale non può esisterci una creatura che non sia stata salvata da lui perché ne basta una e questo è vero per cui non si è più redentore universale ci ha voluto che nascesse un francescano con gli attributi che era buscoto che disse certo che è vero ma ci sono modi e modi per salvare una persona tu puoi salvare una persona dopo che si è rotta una gamba gli erangessi oppure puoi preservare una persona da rompersela il che è molto meglio perché meglio se la macchina non ci va dal carrozziere e gli impedisci di fare gli incidenti piuttosto che la metti a posto dopo che è caduta e se tu sei intervenuto attivamente per impedire che l'incidente accadesse non solo che l'hai salvato anche a quello ma l'hai salvato in una forma più eccellente gli hai fatto un regalo più grande e quindi questo non toglie l'universalità della redenzione ora prima che la verità dell'immacolata concezione fosse definita da pio nono nel 1854 c'erano stati parecchi pronunciamenti del magistero nei secoli precedenti a favore dell'esenzione della madonna dal peccato originale ma non ancora un dogma di fede tuttavia prima della definizione dogmatica le due opinioni contrarie erano entrambe lecite e che cosa dimostrò il dogma del 1854 che la scuola francescana era nel giusto e quella domenicana era nell'errore ottenendo teniamo sempre presente una cosa questo è un principio fondamentale quando su uno stesso problema che può essere un problema teologico può essere un problema giuridico un problema sociale ci sono due linee due narrazioni una che va da un lato e una che va dall'altro uno si sbaglia questo è sicuro determinare chi è perché fino a quando non c'è un pronunciamento autorevole quindi un qualche un qualche episodio che chiude la controversia in questo caso per quanto riguarda le cose teologiche basta un dogma una definizione dogmatica per quanto riguarda altro che boh però quando ci sono due letture opposte di uno stesso fatto una sbagliata questo è sicuro è evidente che ciascuno di quelli che tiene per una certa visione è convinto di stare nel giusto che quell'altro stia nel nell'errore ecco lo sforzo che si deve fare perché è rimanere aperti sempre al confronto se posso permettermi da povero prete di dare un consiglio abbi le tue convinzioni ma ricorda sempre una cosa se tu stai nel vero ascolta la controparte perché l'ascolto della controparte se tu stai nel vero non solo che non ti convincerà affatto del contrario ma ti rafforzerà nelle tue convinzioni però devi ascoltare non devi fare finta di sentire pensando che stia dicendo un sacco di cretinate cioè devi avere la capacità il coraggio anche la saggezza di dire vabbè non ci credo ma supponiamo che io mi sia sbagliato e quindi dimmi dimmi tutto io sono convinto questa è una convinzione personale che se nel cuore di un essere umano c'è questa disposizione e quella persona ricerca sinceramente la verità non la conferma delle proprie idee nostro signore non è possibile che permetta che rimanga nell'errore questa è una mia convinzione personale però ci deve essere questa apertura non pregiudiziale guardate che questa apertura dalla mia esperienza di vita è una delle cose più difficili da trovare nei cuori più difficile in assoluto è più facile trovare la castità perfetta che una disposizione del genere il caso dell'ipotesi che stiamo qui trattando e il barontino dice da me avanzata è certo molto diverso dato che non è mai stata sostenuta direttamente da pronunciamenti magisteriali questa opinione quindi è molto più incerta di quella dell'immacolata concezione prima che fosse definita tuttavia io sono convinto della legittimità e dell'obiettività della mia ricerca perché penso che avere nella mente un'ipotesi che come ho detto non sia palesemente sbagliata non pregiudichi l'obiettività della ricerca stessa ma anzi ne sia la condizione che la rende penetrante e puttuosa ma cioè quest'uomo si è andato a fare un lavoraccio pazzesco io ancora non so con quale pazienza come ha fatto a trovare dei testi che ha trovato per cui personalmente stasera è la serata delle espressioni delle opinioni personali io credo personalmente che arriverà l'ora in cui la chiesa qualche cosa su questo lo dirà lo dirà e chissà che anche lo studio di questo ragazzi è così non vada a dare un contributo perché è andato comunque a tirare fuori dei tesori nascosti seppelliti cioè ma non so chi di voi ha mai visto il Migne cioè questo è andato a prendere i testi dal Migne dalla patologia greca in greco se era andato a tradurre se era andato in una montagna di come caspita fatto andare a trovare cioè è complicato cioè io quando ho visto una roba del genere io l'avevo sempre l'avevo da sempre desiderato perché conoscevo un paio di scritti di San Giovanni Crisosto me l'ho già detto dico ma con tutte le cose dei padri che ho letto mi ricordavo qualcosa dico ma sta cosa c'era nella patristica dico ma ma come la faccio a dimostrare tu le vado a trovare tutti quanti i testi e questo me mi mette tutti quanti davanti in mano io quando ho letto sto libro dico ma che stiamo ma stiamo su scherzi a parte stiamo ma che è sta roba sono veramente rimasto non voglio adesso incensare canonizzare spero che sia però il lavoro che è stato fatto è veramente impressionante ora io penso prima continua a dire che prima del 1854 e quindi prima che la chiesa lo applicasse nella liturgia della Vergine Maria del suo privilegio dell'immacolata solo chi propendeva per tali ipotesi poteva vedere nel versetto tutta bella tu sei amica mia in te nessuna macchia questo versetto del cantico dei cattici allora prima dell'immacolata concezione lui sta dicendo tutta bella sei amica mia in te nessuna macchia chi l'ha detto che era Madonna cioè proviamo a come dire a settare la mente no andiamo al 1500 chi l'ha detto che era Madonna lo dici tu lo dici potrebbe essere ma potrebbe anche non essere capite lo studio che lui ha fatto l'ipotesi che anche io sto facendo sta a questo stadio quindi chiunque ti può dire ma chi l'ha detto allora ti dico l'hanno detto in questi queste sono le ragioni che sostengono questa ricostruzione tu puoi anche averne un'altra però attenzione l'altra la devi motivare e le risposte che vengono date attraverso questa ipotesi e tu le devi trovare da qualche altra parte non puoi lasciare quelle domande aperte questo è argomentare scientificamente anche in un campo come la teologia che non è scienza galileiana però è scienza cioè noi non possiamo andare per me è così punto e basta e no per me è così punto e basta che sono queste cose qui queste sono fantasie eh no ecco ci stanno 200 pagine che infarcite di citazione di testi che dicono fantasie no ne possiamo parlare ma fantasie no allora la stessa cosa rispetto ad un'altra verità di fede vale per il versetto sorgi signore verso il luogo del tuo riposo tu è l'arca della tua potenza salmo 131,8 ma prima del dogma del 1950 ma chi poteva vedervi un riferimento all'assunzione al cielo in corpo ed anima di maria santissima sorgi signore verso il luogo del tuo riposo tu è l'arca della tua potenza io penso solo che aveva già tale convinzione è come avere delle lenti speciali che consentono di vedere delle cose che altri non riescono a vedere o avere delle antenne speciali che riescono a cattare delle vibrazioni che altri non riescono a percepire certamente le verità di queste convinzioni la verità di queste convinzioni viene dimostrata al di là di ogni dubbio solo quando la chiesa di nuovo si pronuncia ufficialmente su determinate unità di fede anche senza la necessità di una definizione dogmatica solo quando questo avviene si dimostra che chi credeva già prima ad una certa verità di fede aveva visto giusto aveva davvero delle lenti e delle antenne speciali ma anche quando così avviene non è lecito dire che chi ha visto giusto in anticipo è migliore di chi non è riuscito a vedere le lenti e le antenne speciali quando ci fossero bravo Barontini sono solo doni di Dio ricevuti senza alcun merito e senza per questo essere migliori di nessuno detto questo cominciamo a prendere in esame alcuni testi del Magisterio e comincia dai capitoli pseudo-celestini ossia l'indiculus i capitoli pseudo-celestini sono sentenze dottrinali anti-pelaggiane dei vescovi di Roma circa la grazia di Dio e il libero arbitrio della volontà quasi sempre allegate alla lettera apostolici verba di Celestino V e a lui erroneamente attribuite il Densinger o penso che sappiate cosa sia il Densinger il Densinger o Enchiridion Definitionum è la raccolta io adesso ce l'ho in libreria vorrei anche mostrarlo insomma in video autorevoli tutte quante le sentenze e definizioni dottrinali autorevoli quindi non tutte a livello di dogma ma comunque pesanti che si sono proseguite nella storia della Chiesa in duemila anni quando una cosa è riportata dal Densinger lì bisogna stare tranquilli non è detto che sia un dogma di fede inoppugnabile però sta nel Densinger sta nel Densinger vuol dire che sta nel Densinger quindi bisogna essere molto cauti prima di andare a dire il contrario di una cosa che si legge nel Densinger in Densinger riporta l'ovionio secondo cui essi furono raccolte tra il 435 e il 442 a Roma da Prospero di Aquitanie di esse prendiamo in esame solo un breve passo dal capitolo quinto ogni propensione e ogni opera in merito dei santi è da riportare alla gloria e alla lode di Dio poiché nessuno in altro modo gli ha gradito se non se non partendo che richiami generazione di altri esseri umani per cui l'uomo e la donna creature eccelse ma sempre creature erano tenuti umilmente ad obbedire a fidarsi del loro creatore e della sozione misteriosa nella propria che sarebbe avvenuta che l'uomo lo andasse a violare a sfondare io non so se Barontini abbia letto l'opera della Valtorta e quanto sia stato influenzato anche da questo e se magari lui ha fatto la cosa che avrei fatto certamente io perché io queste cose le ho prese per la prima volta lo confesso dagli scritti di Maria Valtorta e ne sono rimasto completamente folgorato ma tu guarda un po' cioè nel senso che leggendo la mia intelligenza sperando che ce ne sia un po' dice ma guarda un po' che roba ma sta a vedere che andrà proprio così io sono rimasto folgorato i progenitori riprendo la citazione invece dopo la disobbedienza e spinti dalla molla della superbia avrebbero concepito il disegno di generare altri esseri umani da soli con le loro sole forze naturali tramite l'unione fisica senza l'aiuto misterioso di Dio e contro la sua volontà riprendiamo un attimo un brano di Agostino già analizzato Agostino il primo Agostino i nostri progenitori se non avessero peccato avrebbero potuto avere figli anziché attraverso la relazione carnale in qualche maniera diversa per dono del creatore onnipotente dato che egli poté far nascere loro stessi senza genitori e poté formare il corpo di Cristo nel grembo di una vergine e non mi si venga a dire dice ma allora gli attributi sessuali che ce li ha messi a fare perché qualcuno già comincia anche le mail che mi arrivano a parte il fatto arriva fino alla fine no scusate ma se non vorrei che Giuseppe non era un maschio San Giuseppe e la Madonna non era una donna cioè con un corpo femminile punto interrogativo certamente sì quindi questo brano descrive molto bene l'ipotesi da mia proposta in assenza del peccato di origine la procreazione sarebbe avvenuta senza la relazione carnale e in modo misterioso il corpo degli esseri umani sarebbe stato un dono del creatore onnipotente in tal modo tutto l'uomo nei suoi due principi costitutivi di anima e di corpo sarebbe stato gradito a Dio infatti ogni anima spirituale è creata direttamente da Dio dice il Catechismo della Chiesa Cattolica 366 ma anche il corpo sarebbe stato un dono di Dio perché generato secondo la sua volontà i nostri corpi attenzione dal Nuovo Testamento non dall'Antico Testamento sono chiamati da San Paolo corpi del peccato corpi del peccato lo dice San Paolo non Maria Valtorta o Barontini o qualche altra strana personalità è parola di Dio corpi del peccato San Paolo Apostolo mi prendo la briga di andare un attimo al volo Romani 6,6 sappiamo bene che il nostro uomo vecchio è stato crocifisso con lui perché fosse distrutto il corpo del peccato corpo del peccato Romani 6,6 e ancora Romani 8,10 e se Cristo è in voi il vostro corpo è morto a causa del peccato ma lo spirito è vita a causa della giustificazione questo è San Paolo corpo del peccato in seguito al peccato originale invece il corpo viene generato da sangue anzi da sangui come abbiamo visto da volere di carne e da volere di uomo si legge nel prologo del Vangelo di San Giovanni cos'è che viene generato da carne e da volere da sangui e da volere di uomo il corpo che qualcuno di voi è capace di generare un'anima mi viene di conseguenza che uno dei principi costitutivi dell'uomo cioè il corpo così generato non è gradito a Dio perché non è un suo dono ma anzi è frutto di una disobbedienza iniziale che condiziona negativamente il modo di generare di tutta l'umanità ed è quindi destinato a ritornare in polvere perché nessuno in altro modo gli è gradito se non partendo da quanto egli stesso gli ha donato la frase che abbiamo esaminato ecco l'attinenza la frase dell'indiculus dice nessuno in altro modo gli è gradito a Dio se non quanto egli stesso gli ha donato allora guardate che è un genio perché come siamo fatti adesso non siamo ancora perfettamente graditi a Dio perché l'anima ha fatta lui ma il corpo no il corpo ce lo siamo andati a prendere noi prevaricando e dandogli una modalità di generazione che non è quella che Dio voleva una volta che questo è stato fatto questo condiziona negativamente tutto il genere umano per cui non è possibile adesso fare altro non è possibile ma ricordiamo Gesù nell'altro mondo questo non si fa cioè il fatto che voi pensate all'idollatria che c'è in giro adesso del sesso sotto tutti i punti di vista cioè il fatto che Gesù e la Madonna non sanno neanche cosa sia e che in paradiso questo sicuramente non c'è perché l'ha detto Gesù non esiste questa cosa e battezione che il paradiso è il luogo dell'eterna beatitudine il paradiso è il luogo del godimento assoluto cioè la beatitudine è il concentrato di tutti i godimenti possibili e immaginabili ci sono tutti anche moltissimi che non conosciamo ma questo che pure presenta un aspetto molto violento di godimento non c'è ma come mai come mai sono cose che fanno pensare no allora adesso ci sono un gruppo di testi vediamo quanti riusciamo a vedermi perché siamo addirittura d'arrivo non so se riusciamo a vedermi tutti sull'incarnazione del verbo e la perpetua virginità di Maria Santissima allora papormisda la lettera inter ea que anche qui abbiamo densinger 368 questa lettera questa lettera dell'anno 521 è uno dei moltissimi documenti magisteriali che trattano fra le altre cose il tema dell'incarnazione del verbo andiamolo a leggere insieme è proprio poi del figlio di Dio che negli ultimi tempi il verbo divenisse carne e abitasse in mezzo a noi essendo state unite nel grembo della santa vergine Maria centrice di Dio ambedue le nature umana e divina aggiungo io senza confusione alcuna in modo tale che il figlio di Dio che era prima dei tempi diventasse figlio dell'uomo e nascesse dal tempo secondo la maniera propria dell'uomo aprendo nella nascita il grembo materno ma non infrangendo in forza della divinità la virginità della madre veramente è degno della nascita di Dio il mistero che colui che fece essere la concezione senza seme conservasse il parto senza corruzione mantenendo ciò che egli era dal padre e dimostrando ciò che egli prese dalla madre fin dai primi secoli i pontifici romani hanno tenuto a precisare sottolineando l'importanza che Gesù non solo è stato concepito virginalmente ma è anche nato non infrangendo la virginità della madre prima di Ormisda anche Papa San Leone Magno il grande San Leone Magno aveva scritto di Cristo ma proprio grande San Leone Magno è l'autore di fatto del concilio di Calcedoni è stato poi concepito dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre che lo partorì restando intatta la sua virginità così come intatta virginità lo concepì ora c'è da dire che il fattore veramente essenziale per salvaguardare la divinità di Cristo è il fatto che sia stato concepito da una Vergine così che il Padre di Gesù non sia un uomo ma Dio Padre anche se nella nascita Gesù avesse reso la virginità della madre questo non avrebbe minimamente compromesso la verità di fede della sua eternità divina e quindi della sua divinità perché allora i Papi annettono tanta importanza al fatto che anche nel parto la virginità di Maria Santissima sia rimasta intatta attenzione lasciamo perché attenzione che la virginità di Maria nel parto prima durante e dopo il parto questo è un dogma di fede questo è il primo dogma mariano la virginità perpetua il secondo è la maternità divina il terzo è l'immacolata concezione il quarto è l'assunzione quando ci sarà il quinto che secondo me ci sarà sarà la corredenzione poi sono finiti cinque ne staranno come sono le piaghe di nostro signore Gesù Cristo però la sono quattro ok ma la virginità perpetua è il primo che è venuto definendosi nel corso della storia allora facciamo un momento locale come mai è così importante la virginità nel parto come mai mi sembra che una prima risposta si possa trovare nel brano di Paolo che abbiamo appena letto Dio ha voluto oltre al concepimento senza seme conservare il parto senza corruzione e quindi la violazione della virginità è identificata con la corruzione ed è chiaro che quello del Cristo se così fosse avvenuto per ipotesi sarebbe stato l'unico caso in cui la virginità sarebbe stata lesa dalla nascita del bambino perché in tutte le altre nascite la virginità della madre è già stata lesa dal rapporto sessuale che ha dato origine al concepimento sembrerebbe allora che la violazione della virginità e quindi necessariamente anche il rapporto carnale siano connessi in qualche modo all'idea di corruzione e ciò è in accordo con la concessione di tanti autori e padri esaminati come ad esempio San Giovedo di Nazianzio San Giovanni di Crisostomo San Basilio di Ancira Sant'Ambrogio e San Massimo di Confessore senza corruzione attenzione perdita della virginità in quel modo uguale corruzione corruzione di che cosa? cosa ci sarebbe di male? capiamo no? c'è di male il fatto che la virginità creata da Dio non avrebbe mai dovuto essere persa e nella Madonna così è stato sinodo la tenarenza sessione quinta canone 3 a riprova dell'importanza attribuita dalla Magistera all'integrità della virginità di Maria Santissima durante e dopo il parto vediamo un brano degli atti di questo sinodo che si svolse nel 649 sotto il Papa Martino I gli atti sono conservati sia in latino che in greco riportiamo la traduzione in italiano del testo latino che a sua volta è la traduzione di un testo greco che a detta del Densinger risale fondamentalmente a San Massimo il confessore anche qui Densinger 503 se qualcuno secondo i Santi Padri non professa in senso proprio e secondo verità la Santa è sempre Vergine Immacolata Madre di Dio la sempre Vergine Immacolata Maria quale genitrice di Dio Giacchella propriamente e veramente alla fine dei tempi concepì senza seme dallo Spirito Santo e senza corruzione generò il verbo stesso che prima di tutti i tempi fu generato da Dio il Padre e che anche dopo il parto rimase la sua Vergineità sia condannato anche in questo testo magisteriale c'è da notare che si distingue accuratamente fra il concepimento di Gesù avvenuto senza seme cioè dallo Spirito Santo e la sua generazione che come nei testi di Ambrogio e in altri testi di Massimo il Confessore che è redattore anche di questo significa nascita parto il parto di Maria Santissima è avvenuta senza corruzione perché dopo il parto rimase la sua Vergine facciamo in tempo a leggere anche l'ultimo di questi testi sedicesimo sinodo di Toledo professione di fede articoli 18 19 Densinger 571 l'oracolo dell'angelo quando dice lo Spirito Santo verrà su di lei e annunciò che la potenza dell'Altissimo che è il figlio di Dio Padre l'avrebbe adombrata mostrò che l'intera Trinità coopera con la carne del figlio come la Vergine infatti prima della concezione conservò il pudore della verginità così dopo la nascita la sua integrità non fu ferita infatti concepì come Vergine diede alla luce come Vergine e conservò dopo la nascita il pudore dell'incorruzione senza sottrazione ancora una volta un documento del Magistero mette in evidenza che l'aver dato alla luce il figlio come Vergine ha voluto dire per Maria Santissima conservare il pudore dell'incorruzione se dunque alla verginità viene sempre connessa alla condizione di incorruzione per converso alla perdita della verginità e quindi necessariamente al rapporto sessuale viene sempre connessa una certa condizione di corruzione evidentemente pur mantenendo sempre il concetto della liceità e santità del matrimonio ci fermiamo qui per oggi la prossima volta speriamo di concludere chi lo sa i testi magisteriali per provare che poi possiamo passare all'ultima parte dell'opera c'è ancora un bel percorsino insomma da fare ci aggiorniamo se Dio vuole alla prossima che Dio tutti vi benedica che la Madonna sempre vi protegga la prossima